Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di progetto dell'anno Protection Insurance. Leggiamo la motivazione. Per aver applicato il know-how nella protection assicurativa e nella vendita a distanza al settore della mobilità smart, ecologica e personale, con il prodotto Infortuni in Mobilità, realizzato per i clienti Telepass, per aver puntato in maniera vincente su digitale e mobile, grazie a una nuova piattaforma di e-commerce. Il premio va a MetLife. Saluto il General Manager in collegamento con noi, Maurizio Taglietti. Buongiorno, benvenuto, naturalmente complimenti per questo riconoscimento. Buongiorno e grazie per i complimenti. Insomma, complimenti che poi sono la realtà, perché poi rappresentano quello che avete fatto e soprattutto il progetto che abbiamo messo in evidenza nella motivazione. Prima le chiedo, poi andiamo a parlare di quello, ma prima le chiedo un commento a questa vittoria. Indubbiamente fa molto piacere. È un premio che riconosce la bontà dell'iniziativa, cosa che tra l'altro è riscontrata dalla grande adesione che abbiamo a livello pubblico e nello stesso tempo è un riconoscimento al lavoro che il mio team, insieme con quello di Telepass nello specifico, ha fatto durante un periodo piuttosto complicato. Questo prodotto è stato lanciato nel pieno della pandemia, quindi voglio dire onore ai due team che hanno lavorato insieme con sinergia in modo assolutamente egregio, tant'è che appunto questa iniziativa ha avuto il riscontro sia del pubblico ma di anche chi è in grado di apprezzare questo genere di progetti. Certo, assolutamente. Peraltro ci colleghiamo subito al tema della protezione, quindi restiamo ancora un istante su questo progetto, che cosa ha significato per voi, ce l'ho già spiegato, però insomma entriamo un po' più nel merito se vuole e poi perché rappresenta l'evoluzione del sentiment che i clienti hanno proprio in merito all'esigenza di protezione. Credo che sia un'esigenza che è diventata ancora più forte in questo ultimo anno. Guardi, vi rispondo iniziando dalla seconda parte della sua domanda. Indubbiamente dalla pandemia, tra i vari aspetti di negatività che ha portato, ha avuto il merito, se così possiamo dire, di sensibilizzare la grande platea sui termini della protezione personale, proteggere se stessi, i propri cari, le proprie famiglie, le persone che lavorano nelle nostre aziende. Abbiamo avuto dei riscontri sia a livello statistico di ricerche ma anche a livello pratico quotidiano quanto la protezione è salita in termini di priorità nella pianificazione del futuro di tutti noi. Ci siamo spostati verso quelli che erano settori tipo quello della grande e media impresa dove la sensibilità era già abbastanza elevata. Oggi la vediamo anche su livelli di dimensioni più bassi, quindi la piccola impresa, l'impresa individuale ma le famiglie stesse. Il prodotto infortuni mobilità con Telepass va a intercettare un bisogno di protezione, come lei ben ha evidenziato, smart, ecologico, responsabile, personalizzato, in un momento in cui si riparte e la ripartenza vede al centro sicuramente il ritornare a muoverci, il ritornare a viaggiare. Quindi questa iniziativa va anche a intercettare nuovi bisogni legati a una voglia di ripresa che, come stiamo vedendo guardandoci attorno, è piuttosto importante. Quindi abbiamo anticipato, con buona capacità di interpretare, se vogliamo, i trend, abbiamo anticipato quello che poi è sotto gli occhi di tutti. Dottor Taglietti, nell'ultima parte della motivazione leggiamo anche per aver puntato in maniera vincente su digitale e mobile. A questo punto le chiedo quanta rilevanza è stata data proprio alla componente digitale e come si colloca, quindi guardando al futuro, la digitalizzazione nella strategia, appunto, di MetLife. Guardi, MetLife ha raggiunto una posizione di indubbia leadership nell'ambito delle compagnie specializzate nella protezione personale e la nostra strategia di differenziazione punta sulla multicanalità. Quindi noi distribuiamo attraverso partnership, prevalentemente bancarie, ma non solo. Telepass è un esempio, attraverso la distribuzione di, attraverso una distribuzione tradizionale, agenti e broker e attraverso la vendita a distanza con diverse modalità e diverse tecniche che includono anche la vendita diretta attraverso la piattaforma. Ma questa piattaforma ha un'importanza perché è in grado anche di supportare la distribuzione sugli altri canali che le dicevo prima. Quindi noi la utilizzeremo per vendere direttamente le nostre polizze sul nostro sito web, sul nostro mobile, delle app del nostro mobile, ma anche per la collaborazione soprattutto con le partnership industriali, quindi bancarie e non. La digitalizzazione è un qualche cosa che ci vede protagonisti da diversi anni ed è un asset strategico per il nostro sviluppo. La pandemia anche qui ha avuto un ruolo importante. Abbiamo contratto i tempi di sviluppo e abbiamo anticipato un po' il futuro. Oggi siamo dove avremmo voluto essere tra tre anni e quindi continueremo a spingere e capitalizzando, diciamo, questo vantaggio che abbiamo realizzato in questo periodo. Esatto, esatto. Diciamo che una delle cose positive, bisogna sempre trarre insegnamento, insomma così almeno ci hanno sempre detto, una delle cose positive di questo anno è accelerare dei processi che forse ci vedevano un po' più indietro rispetto ad altri paesi. quindi da quel punto di vista dobbiamo mettere a frutto le nostre conoscenze che comunque ci sono, no? E spesso invece faticano a diventare pratiche. Senta, dottor Taglietti, ovviamente sarà sempre più pressante questo discorso soprattutto intorno alla digitalizzazione, perciò io faccio ancora i complimenti a tutto il team di MetLife per questo premio, il progetto dell'anno Protection Insurance e naturalmente l'anno prossimo magari in modalità diversa, fisica per così dire, mi auguro ci possa essere nuova occasione per parlare degli ulteriori progetti, perciò l'invito è, come dire, a essere sempre sul pezzo per partecipare nuovamente ai nostri awards, insomma noi vi monitoreremo. Guardi, la ringrazio, ci conto e sicuramente non vediamo l'ora di poterci rincontrare di persona. D'accordo, grazie a Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife e ancora complimenti. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Grazie a tutti.